è difficile parlare male di elimination chamber perché tutto sommato gli atleti quello che dovevano fare lo hanno fatto i match sono stati per lo più gradevoli però purtroppo c'erano diversi poli negativi che hanno tolto tutta la gravità positiva alla manifestazione innanzitutto i risultati scontatissimi sin dall'inizio ora non è che un premio un live event è bello perché succede qualcosa di inaspettato e vince qualcuno che partiva sfavorito però qui avevamo sulla cartella della tombola i numeri sicuri sapevamo che avrebbero estratto quelli e poi ciò che doveva o poteva causare degli sconquassi in realtà si è dimostrato si è rivelato un bisbiglio timido quando avrebbe dovuto essere un canto da tenore e mi riferisco al greson waller effect quindi mi trovo in difficoltà a valutare elimination chamber perché se vi piace il wrestling a livello sportivo probabilmente avete in qualche modo gradito la kermesse però la mancanza di storie particolarmente pesanti si è fatta sentire e ha causato secondo me qualche momento di stanca oppure ha condizionato chi non essendo nello stadio ha comunque percepito un'atmosfera diversa e meno partecipativa ma andiamo all'analisi match per match partiamo con becky lynch che come da copione fa l'impresa e inizia l'incontro e lo vince questo per me è stato il match migliore della serata perché ha utilizzato uno schema semplice ma vincente ovvero l'ultima che entra cioè l'atleta fresca mette pepe corre va all'attacco blasta le altre niente di leonardo da vincico a ben vedere però erano tutte combattenti agili dinamiche che hanno tenuto su l'incontro con un ritmo interessante e questa staffetta entro prendo possesso del ring di rigolo orchestra per un po sino che chiaramente non ritorno nel mucchio e attendo quella dopo o per quanto sia l'algebra elementare ha fatto prendere 10 in pagella a chi ha risolto le equazioni in quel modo tiffany stratton ci presenta un bel biglietto da visita e lei a ben vedere forse la mvp della contesa raccher rodriguez mostra degli ottimi atti di forza e c'è un finale sbrigativo che qualcuno in live reaction ha un po contestato ma io lo capisco live elimina bianca e poi si conferma la runner up visto che è becchi a farla fuori perché lo capisco perché boom il temporale improvviso che finisce non epicità nel finale la lasciamo agli altri qui ci siamo basati sulla destrezza e il match si conclude proprio su quel binario quindi non un confronto serrato one on one alla fine ma una sequenza che in poco ci dà la vincitrice da tre diventano una rovesciando una vecchia canzone di sanremo dell'anno scorso se non ricordo male quindi direi un inizio bello sostenuto e qua iniziano i problemi pittane taler bait contro il judgment day innanzitutto di luci perché forse volontariamente forse no hanno inquadrato all'inglese almeno inglese di inizio anni 2000 con tante ombre sul ring e poca visibilità tra il pubblico ma in generale perché dico che qui iniziano i problemi perché è stato un bel match nel disinteresse di tanti io l'ho guardato ho visto belle mosse taler bait snodato le tecniche combo bravi però anche qui più che negli altri ho parimenti che gli altri risultato mai in dubbio mai in bilico non sono mai riusciti a farmi credere che il judgment day avrebbe perso certo è stato espulso dominic però non lo so non c'era non c'è una storia nella divisione tech team che la aiuti c'è sempre il torneo che decreta i primi sfidanti primi sfidanti che battono dominic e jd mcdonald e poi finisce la loro corsa contro i campioni e ritornano in fondo alla fila e anche la squadra appena nata di pitt dann e taler bait che col judgment day ha interagito tutto sommato molto poco non aveva il blasone iniziale per poter essere presa in considerazione come top contender come squadra capace di vincere e quindi io capisco anche tutti coloro che hanno gettato la spugna sul match che invece è stato bello c'è stato solo un grave errore quello va detto del judgment day su damien priest che non arriva a colpire fin balor lanciato da uno dei nemici in reversal come avrebbe dovuto e quello è stato abbastanza plateale però ci sono state delle ottime sequenze vanificate dal fatto che wb non ci ha raccontato una bella storia tra di loro voto al match sportivo sapete che io non sono bravo a darli però alto sia un errore grave ma in mezzo a tanti bocconcini deliziosi in mezzo a tante pepite ce ne sta una di stagno però voto alla storia che mi hanno raccontato arrivando qui e a ben vedere anche durante il match boh zero credo ed è una costante di questo evento e arriviamo secondo me alla grande delusione della serata qui hai grayson waller con due pezzi da 90 e il mondo intero che si interroga se ci sarà the rock ci ha giocato un po anche la wb nel kick off pur lasciando intendere che the rock non si sarebbe fatto vedere sono stati astuti al punto giusto per non alimentare false speranze anche tripoleici in conferenza stampa aveva abbassato le ali a tutti dicendo guardate che non ci sarà non voglio accendere il fuoco della vostra delusione va bene però puoi fare mille cose puoi far uscire solo sicoa jimmy uso puoi non lo so e invece e invece abbiamo due scoop e ci mettono mezz'ora praticamente per dircelo quasi tra gli ingressi le entrate le presentazioni il battibecco il primo è che se trollings tra qualche giorno otterrà il via libera medico per tornare a lottare e l'altro il secondo scoop è che cody rhodes visto che romar visto che the rock lo ha preso a sberle lo sfida combatterò contro di te come dove quando vuoi quindi cody rhodes lancia una sfida aperta a the rock teoricamente è una cosa da farci un titolo cody rhodes sfida the rock è grossa ma serviva allocargli così tanto tempo fare un segmento apposta in un premium live event dove the rock non c'è nemmeno per rispondere lo farà probabilmente nella prossima puntata di smackdown quando questa sfida poteva già lanciarla durante la settimana quando giaco di rhodes ha parlato e anche in quella circostanza ha detto che gliela avrebbe fatta pagare a the rock ci ha messo sette giorni cinque sei quello che è per formulare un passaggio dal te la faccio pagare alti sfido non lo so secondo me però questo segmento ha veramente succhiato tanta energia dallo spettatore televisivo perché doveva esserci qualcosa doveva esserci uno sviluppo e c'è stato ben vedere però abbastanza arido abbastanza plane pianeggiante non c'è stata quella scossa tellurica in poche parole mi ha molto deluso mi ha molto deluso è stato quasi inutile nell'economia della card quasi una zavorra per come l'ho vissuta io andiamo all'elimination chamber match maschile che rispetto a quella delle donne è stata più fisica più muscolare di là c'era la destrezza qui invece c'erano i fisici a parte logan paul quasi tutti atleti similari sì è vero anche kevin owens fa cose un po atipiche però meno male erano un po delle copie quasi tutti orton ha subito mostrato problemi alla schiena non sappiamo se veri o simulati se si tratta di selling ha fatto un capolavoro se invece sono veri deve suonare una campana allarmistica per buona parte della sfida non sono stato un granchè preso poi però finalmente sono arrivati i momenti wow la spear di bobby lashley sulla cella con logan paul dentro se non ricordo male poi l'ingresso di age styles che va a pestare ellen knight con la sedia logan paul che col tirappugni colpisce randy orton per vendicarsi perché lo ha eliminato quindi c'è stata un po di storia interna al match e anche le vicende esterne non tutte ma quelle più importanti poi hanno avuto a a che fare con il contorno e con il risultato quindi da questo punto di vista c'è stato per me un incontro meno vivace rispetto a quello femminile però ha coinvolto rispetto a tutti gli altri match a quelli a quello precedente e al discorso di greson gol era coinvolto un po meglio ha tirato dentro il pubblico ha tirato dentro i comprimari che in qualche modo ce l'hanno ce l'avranno con i protagonisti quindi jay styles che ce l'aveva con ellen knight e logan paul che qui apre ad un possibile scenario contro randy orton quindi tutto sommato questa chamber mi è piaciuta anche se anche qui abbiamo l'atleta che la inizia dron mckintyre che è il mega favorito e alla fine grazie ad un susseguirsi di eventi è lui che prevale un occhio attento probabilmente gli darà qualche voto in meno perché ormai quando un wrestler finge di essersi infortunato come bobby lashley e rimane la cella della gabbia aperta ormai che arrivi qualcuno o che stia per accadere qualcosa di losco è un scamotage super abusato in live reaction praticamente l'interferenza di jay styles e logan paul che si va a vendicare da eliminato sono stati ampiamente anticipati e pronosticati perché erano chiaramente lì da vedere erano telefonati come vi ho già detto il main event con la conferma anche questa chiara evidente lampante diria replay è un bel main event un bell'incontro ragazzi se vuoi vederlo se ti va di guardarlo con le due atlete soprattutto naya jacks che hanno tirato fuori dal cilindro qualche manovra che usano poco che usano col contagocce naya jacks tra l'altro contro un'avversaria di peso e non la solita ragazza di 50 kg si vede che si sente un po più libera un po più spregiudicata che non c'è quel terrore del cavolo uso il mio peso o il mio peso da solo le va addosso e si fa male ha mostrato tutte le incongruenze dei match di tipologia sportiva quindi ria che subisce il banzai drop l'unnihilator come lo chiamano e poi dopo 30 secondi è fresca e pimpante come se non fosse accaduto niente però se vi piace quella tipologia di incontro aveva tutto ha avuto tutto è stata abile qui la wwe a far passare la storia che ria ce la fa perché il pubblico australiano la sostiene le dà una mano è al suo fianco è l'uomo in più ed è quello che ci ha raccontato il match quindi ha funzionato però come vi dicevo all'inizio quei poli magnetici negativi probabilmente lo faranno passare come un incontro dozzinale o banale perché sapevamo tutti ce l'avevano già spoilerato nella conferenza stampa di vrestelmania che allo showcase degli imbortagli avremmo avuto ria replay contro becky lynch e poi nel momento in cui scegli di mettere la mami nel main event lei idolo di casa in australia dove speri di tornare è quasi scontato che vista l'avversaria sarà lei a vincere perché qualcuno dirà beh anche drew mckintyre ha perso a casa sua sì contro roman race però lanciato verso il regno dei record qui nel main event non c'era ria contro becky c'era ria contro naya jacks quindi un'avversaria di percezione diversa per quanto forte e potente rispetto al capo tribù se vogliamo fare un paragone su quei binari quindi ti vedi questo come ultimo match e già dici vabbè ok so già come finisce e ti abbassa l'attenzione non c'è niente da fare te la riduce è un boomerang poi io in questi casi riesco quasi sempre a dire no aspetta vediamo e se dite no aspetta vediamo e riuscite a superare le incongruenze dei match sportivi oppure se quei match vi piacciono è stato bello è stato un bel match è finalmente una difesa convincente piacevole elettrizzante di ria che ne aveva bisogno perché sì è il personaggio femminile dell'anno dello scorso anno a mani basse ma è anche forse la peggior campionessa degli ultimi periodi peggiore in quanto non ha quasi mai difeso o lo ha fatto contro avversarie sconfitte in partenza in match un po da sbadiglio o in fagiolate pluridonna che non avevano un gran senso quindi concludendo cosa rimane di questo elimination chamber triple a ci aveva parlato di evento monumentale in vista di rest almenia a ben vedere le sue parole non sono scorrette elimination chamber ci va a indicare due dei match di cartello di quello show set rollins contro drew mcintyre e ria ripley contro becky lynch però non avevamo dubbi che fossero questi non avevamo dubbi nemmeno su tutti gli altri risultati della card là dove c'era un dubbio là dove ci si aspettava il carnevale di rio il grayson waller effect alla fine non abbiamo lanciato nemmeno un coriandolo però invece in concretezza sono stati belli ripeto se vi piace quello stile non potete dire di no non è il mio stile preferito io preferisco quello narrativo e dunque boh ho come la sensazione che per non saperne leggere né scrivere possiamo cavarcela dicendo è stato vivace frizzante non ci sono state grosse corbellerie il tempo è volato gli diamo una sufficienza di rito senza infamie senza lode restando affamati ma di quella fame che non è né positiva né negativa è neutra restando affamati sapendo che il piatto forte ma lo sapevamo già prima probabilmente per quello il piatto forte arriverà avreste almenia visto che è un anno che gli eventi in premium live event sembrano essere un lungo rimando a vedrete che avreste almenia sarete finalmente soddisfatti e però paghiamo anche i pranzi di metà settimana non soltanto quelli del weekend lo scontrino arriva lo stesso stavolta il costo delle ore investito era più facile da saldare perché di mattina è favorevole a noi europei quindi io direi così direi di chiuderla così una sufficienza streaming sita risicata almeno per il mio modo di valutare più alta se a voi piacciono i match di quella tipologia qui con però il dubbio di aver assistito davvero ad un evento speciale e non ad un house show ad un live event glorificato dall'essere in uno stadio dall'essere di fronte a 52 mila spettatori dall'essere in una nazione entusiasta di vedere una kermes di così alto prestigio quindi ci può anche stare chi venga a scrivere era una puntata di rocca muffata e l'hanno mascherata per bene in quel caso comprendo il vostro punto di vista ma come al solito ognuno ha le sue idee quindi ora è arrivato il momento di dirmi le vostre vi ricordo di lasciare un mi piace al video e di seguire il canale se ancora non lo avete fatto e poi di acquistare su amazon quando comprate da quella piattaforma partendo dalla mia vetrina trovate il link nella descrizione di tutti i video che pubblico in quel caso non spendete nulla di più ma una piccola percentuale di solito tra il 2 e il 3 per cento invece che al signor amazon arriva a me per potenziare la mia offerta social dicevo ora tocca a voi quindi dita a roventi voglio sapere cosa ne pensate di elimination chamber di tutto l'evento e match per match nel solito spazio quello dei commenti a voi quindi